Braccio di ferro a distanza tra il ministro dell'interno Matteo Salvini e alcuni sindaci, tema del contendere il decreto sicurezza. Secondo i primi cittadini ribelli il provvedimento non aiuta a migliorare la sicurezza. Secondo l'Anci l'associazione dei comuni rischia di mettere in difficoltà i sindaci. Nel Vicentino niente ribellioni, la posizione che sembra maggioritaria è quella di rispettare la legge, applicarla ed eventualmente poi chiedere alcune modifiche attraverso i canali politici istituzionali. Al di là delle motivazioni personali che chiunque può avere è una legge dello Stato e quindi i sindaci devono comunque applicarla, è evidente, il sindaco deve assolutamente applicarla, non può fare meno. Le leggi le fa il Parlamento e noi che siamo parte di questo Stato dobbiamo rispettarle. Si può manifestare contro una legge perché siamo in democrazia e questo è giusto farlo, però io come sindaco prima rispetto le leggi, poi se ho anche qualcosa da dire in contrario lo manifesto nei luoghi deputati a questo scopo. La sicurezza è una delle cose più importanti e evidentemente c'è qualcosa che non va in questa legge perché anche dal mio punto di vista effettivamente si va a una direzione che probabilmente non risolverà i problemi. Però io sono dell'idea che siamo dei pubblici ufficiali e quindi dobbiamo rispettare la legge. Per far valere le proprie perplessità invece è giusto semmai esercitare pressioni politiche per chiedere le modifiche. Fare delle pressioni nelle stanze giuste, quindi a livello governativo, magari con i ministri vicini da un punto di vista territoriale, ad esempio il ministro Erika Stefani che è proprio della Valle dell'Agno, fare pressioni affinché magari qualche modifica venga apportata.